Alta velocità e autostrada, pronti progetti di ANAS per l'adeguamento dell'autostrada al tracciato dell'alta velocità. La prefettura di Salerno fa scuola, viabilità unica per le costiere Amalfitane e Sorrentina. Gli studenti del Pisacane salgono in cattedra all'Università di Salerno. Policastro Bussentino hanno il giubilare alla concattedrale di Santa Maria Assunta per i 900 anni dalla morte del santo patrono San Pietro Pappacarbone. Salernitana, via Nicola ha scelto Paolo Sosa per la panchina. Ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News in apertura. Parliamo di alta velocità. Da ANAS arrivano i progetti per l'adeguamento del tracciato autostradale alla linea dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Ha già illustrato il progetto per lo svincolo di Padula-Buonabitacolo. Anche lo svincolo di Sala Consilina potrebbe essere interessato da interventi di adeguamento. Vediamo. Lo svincolo autostradale Padula-Buonabitacolo subirà modifiche adeguamenti. La società ANAS infatti ha recentemente incontrato con i propri tecnici i referenti dei comuni di Padula e Buonabitacolo per condividere con loro il progetto del nuovo svincolo autostradale, ma anche del tracciato autostradale al fine di ottimizzare la percorrenza del tratto, nel rispetto anche della futura realizzazione della tratta di alta velocità-alta capacità Salerno-Reggio Calabria che attraverserà il Vallo di Diano con l'ipotesi anche della realizzazione di una fermata. Arrivano quindi nuove conferme per quanto riguarda il tracciato che Rete Ferroviarie Italiane di Talfer stanno programmando di realizzare attraversando il Vallo di Diano. ANAS infatti è stata chiamata a realizzare opere di adeguamento del tratto autostradale con interventi che siano confacenti anche al passaggio della linea ferrata di alta velocità. Nei giorni scorsi i tecnici di ANAS hanno incontrato i responsabili dei comuni di Buonabitacolo e Padula in particolare per l'operazione sullo svincolo di Padula. Nel corso dell'incontro è stato presentato il progetto con relative planimetrie proposta progettuale ed elaborati che sono stati approvati dal comune di Buonabitacolo in giunta. Si tratta di una serie di interventi che, secondo quanto emerge, dovrebbero interessare anche il territorio comunale di Sala Consiline ed in particolare lo svincolo autostradale che sembrerebbe sarà interessato da nuovi interventi finalizzati, anche in questo caso, all'adeguamento del tratto autostradale al nuovo tracciato dell'alta velocità che attraverserà il Vallo di Diano. Il giorno dopo la sentenza del Tar Campania che ha dato ragione al Presidente della Regione Vincenzo De Luca sulla nomina di Marcello Feola, commissario del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tra le varie dichiarazioni che arrivano dal mondo della politica c'è anche quella del commissario stesso che preferisce non entrare nel merito del fatto e si limita a dichiarare sulle pagine del quotidiano le cronache che, come giusto che sia, si rispetta la sentenza sulle sponde, non farà nulla, ma non esclude che il Ministero dell'Ambiente possa ricorrere al Consiglio di Stato. La certezza è che entro il 22 febbraio da Roma dovrà arrivare una terna di nomi per un altro commissariamento dell'ente e da lì la Regione dovrà partire per scegliere un nome che avrà poi la nomina. Andiamo avanti, fa scuola la scelta della Prefettura di Salerno che ha attuato le targhe alterne in costiera amalfitana a partire dai ponti pasquali del 25 aprile e del primo maggio. La Prefettura di Napoli ha deciso di utilizzare la stessa strategia per decongestionare la statale 145 che attraversa la costiera Sorrentine, quanto emerso dalla riunione convocata ieri in Prefettura di Salerno durante la quale è stato deciso anche altro. Vediamo tutto nel servizio. Ha fatto scuola la scelta della Prefettura di Salerno di attuare lo scorso anno a partire dai ponti di aprile e maggio le targhe alterne in costiera amalfitana e per tutto il periodo estivo per decongestionare la viabilità sulla statale 163. La Prefettura di Napoli ha deciso di utilizzare la stessa strategia per decongestionare la statale 145, la strada che attraversa la costiera Sorrentina. Ma c'è di più. Dopo aver presentato il dispositivo per la costiera Sorrentina, si punta ora ad un coordinamento con la costiera amalfitana, dove la scorsa estate hanno funzionato le limitazioni attivate, in modo da realizzare ordinanze con analoghe modalità. Lo scopo è di evitare che possa accadere che lo stesso giorno possano transitare vetture con targhe dispari in penisola sorrentina e pari in costiera amalfitana. Questa una delle notizie al centro della riunione è convocata in Prefettura Salerno alla presenza di numerosi sindaci della costiera amalfitana ed anche dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci, che aveva partecipato anche all'incontro a Napoli. Il provvedimento dovrebbe scattare già entro le feste di Pasqua in modo da poter verificare l'impatto che avrà sulla mobilità prima che la stagione turistica entri nel vivo, stagione sulla quale però la Regione ha già garantito anche l'aiuto delle vie del mare, come ha ribadito l'assessore Casucci. La riunione ha già anche consentito di mettere nero su bianco quelle che sono le principali perplessità alla presenza delle associazioni di categoria che soprattutto hanno chiesto di poter informare subito ed ampiamente visitatori le attività produttive e commerciali presenti anche i sindaci. La cronaca ancora furti nel Vallo di Diano. Ieri un furto è stato messo a segno a Padula, in una villetta del Parco Smeraldo, nei pressi del convento di San Francesco. Gli ignoti malviventi sono riusciti ad assicurarsi un bottino di diverse migliaia di euro. Avrebbero forzato con un piede di porco un balcone. Una volta all'interno dell'abitazione hanno messo a suo quadro tutte le stanze trovando e portando via oggetti in oro e denaro. A fare la marascoperta i proprietari al rientro da una giornata di lavoro. Andiamo avanti. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che ieri mattina a Castelnuovo Cilento, al culmine di una lite, ha accostellato un 68enne di Vallo della Lucania. Alla base del gesto il litigio per il parcheggio, ma tra i due c'erano vecchie ruggini, tra cui l'acquisto da parte della vittima di una falegnameria finita all'asta. L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e poi trasferito, date le condizioni preoccupanti, all'ospedale del mare di Napoli. L'aggressore invece era stato immediatamente fermato dai carabinieri, ai quali avrebbe confessato di aver colpito l'uomo con una coltellata al culmine di una furiosa lite per strada. Suo carico è stata formulata l'accusa di tentato omicidio. Parliamo ora di scuola. I ragazzi del Pisacane salgono in cattedra all'Università di Salerno. Gli alunni di terza B dell'indirizzo tradizionale e di terza C dell'indirizzo scienze applicate ieri hanno illustrato i lavori realizzati nell'ambito del PCTO Acqua e Città, che li ha messi in contatto con il Dipartimento di Ingegneria Civile. Gli approfondimenti hanno riguardato in particolare le grotte di Pertosa Auletta e le relazioni tra acqua e ingegneria urbana. Vediamo. I ragazzi del Pisacane salgono in cattedra all'Università di Salerno. Gli alunni di terza B dell'indirizzo tradizionale e terza C dell'indirizzo scienze applicate ieri hanno illustrato i lavori realizzati nell'ambito del PCTO Acqua e Città, che li ha messi in contatto con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. L'obiettivo dell'esperienza, un viaggio attraverso le componenti naturali e antropiche del territorio, è stato quello di approfondire l'importanza dell'acqua nello sviluppo urbano e naturale, facendo maturare negli studenti le competenze necessarie a comprendere pienamente i caratteri principali degli spazi e dei contesti urbani in cui vivono. La classe terza B in particolare ha realizzato un progetto di approfondimento sulle grotte di Pertosa Auletta con particolare attenzione al fiume sotterraneo navigabile negro e ai resti di un villaggio palafitticolo del II secolo a.C. La classe terza C ha invece approfondito le relazioni tra acqua e ingegneria urbana, la possibilità di produrre energia in modo rinnovabile e l'impegno delle varie istituzioni deputate alla progettazione, manutenzione e controllo della risorsa idrica. Nelle scorse settimane sono stati fatti rilevi sul campo a Salerno con approfondimento sull'antropizzazione dei corsi d'acqua e nello specifico del torrente Fusandola, che più di 60 anni fa, il 24 ottobre 1954, con una drammatica esondazione, causò 100 morti in città. Oggi il suo corso è stato deviato per permettere la costruzione di Piazza della Libertà e dell'edificio progettato dall'Archistar Bofil. Il percorso, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, ha stimolato nei ragazzi l'approfondimento dell'acqua e della sua importanza nello sviluppo urbano e naturale di una città modernamente organizzata, con la capacità di osservazione, la sensibilità tipica dei giovani e delle tematiche ambientali a cui sono profondamente legati. Ad accompagnare le due classi, ieri, i docenti Bruno Starace, Giovanna D'Alessio e Tommaso Cimmino. A Sanza il 20 febbraio è prevista una giornata di screening per la prevenzione delle patologie oncologiche della cervice uterina con la campagna Ci prendiamo cura di te. Vediamo. L'amministrazione comunale di Sanza ha reso nota la data dedicata alla salute delle donne nell'ambito della campagna di screening per la prevenzione delle patologie oncologiche della cervice uterina. Ci prendiamo cura di te è il motto dell'iniziativa promossa dal comune di Sanza, guidato dal sindaco Vittorio Esposito, con il Dipartimento Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 20 febbraio, quando si terranno visite e controlli programmati presso la saletta medica del centro polifunzionale alla pianoterra dello stabile di Piazzetta a Viera e Ciorciari. La campagna è rivolta quindi al controllo e alla prevenzione delle patologie legate alla cervice uterina attraverso l'esecuzione del PAP test ed è dedicata alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Il prossimo lunedì, nella saletta medica del centro polifunzionale, ad attendere le donne sansesi che hanno prenotato per il test, ci sarà personale sanitario pronto ad effettuare i controlli medici sulla base di un calendario stabilito in seguito alle prenotazioni. Le donne di Sansa, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, possono ancora recarsi presso il comando della Polizia Municipale per perfezionare l'adesione all'attività di screening e la prenotazione. Per ulteriori informazioni è anche possibile rivolgersi all'ufficio di Polizia Municipale in piazza 24 Maggio a Sansa. Un'importante iniziativa dedicata dunque alla salute delle donne e anche alla sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione. E andiamo ora a Policastro Bussentino. A partire dal 4 marzo, la concattedrale di Policastro Bussentino sarà meta di pellegrinaggio per l'ottenimento dell'indulgenza plenaria. Un anno giubilare straordinario programmato dalla diocesi di Teggiano Policastro per i 900 anni della morte del copatrono della diocesi San Pietro-Pappacarbone. Vediamo. Un anno giubilare per la diocesi di Teggiano Policastro a 900 anni dalla morte del copatrono della diocesi San Pietro-Pappacarbone. La cattedrale di Policastro Bussentino dal 4 marzo 2023 al 4 marzo 2024 sarà meta di pellegrinaggio per l'anno giubilare straordinario concesso da Papa Francesco su richiesta del vescovo della diocesi Padre Antonio De Luca a fine di celebrare il nono centenario della morte di San Pietro-Pappacarbone avvenuta il 4 marzo del 1123. San Pietro-Pappacarbone è nato a Salerno nel 1038 è stato vescovo di Policastro e terzo abate dell'abbazia di Cava dei Tirreni un santo venerato nel golfo di Policastro dove presso la concattedrale di Santa Maria Assunta sono conservate alcune reliquie. Il 30 settembre del 1986 la congregazione per i vescovi con relativo decreto dichiarò San Pietro-Pappacarbone insieme a San Cono santo patrono della diocesi di Teggiano Policastro decisione che arrivò a seguito dell'unificazione delle due diocesi di Policastro e Teggiano. Nel nono centenario della morte del santo patrono dunque Monsignor De Luca ha chiesto ed ottenuto la possibilità di indire un anno giubilare straordinario concessione arrivata dalla penitenziaria apostolica il vescovo ha esortato sacerdoti, religiosi e religiose operatori pastorali e tutti fedeli a vivere con fede questo tempo di grazia. L'anno giubilare si aprirà il prossimo 4 marzo giorno della solennità di San Pietro alle ore 17 con la celebrazione eucaristica presso la concattedrale di Policastro Bussentino presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Massimiliano Palinuro vicario apostolico di Istanbul in Turchia. Per i 900 anni della morte del santo patrono della diocesi sarà concessa l'indulgenza plenaria a chiunque si recherà in pellegrinaggio alla concattedrale di Santa Maria Assunta di Policastro Bussentino in qualsiasi giorno dell'anno giubilare. Numerosi gli eventi religiosi e culturali programmati nel corso dell'anno giubilare tra cui la peregrinazio delle reliquie di San Pietro che saranno a Policastro dal 22 al 29 aprile. L'urna contenente le reliquie custodita sotto l'altare della cattedrale dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni sarà accompagnata a Policastro dall'abate Don Michele Petruzzelli. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg. Il distretto diffuso del commercio Expo Sele con Eboli Capofila è stato ufficialmente riconosciuto dalla Regione Campania e è discritto nell'elenco delle entità innovative nell'ambito dei settori produttivi. Il riconoscimento è giunto a meno di un mese dalla firma dell'accordo che vede coinvolti i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Campania con Tursi Terme, Oliveto Citra, Rocca Daspide e Serre. Vediamo. Il distretto diffuso del commercio Expo Sele con Eboli, Comune Capofila è stato ufficialmente riconosciuto dalla Giunta della Regione Campania ed iscritto nell'elenco delle entità innovative nell'ambito dei settori produttivi. A comunicarlo con una nota il primo cittadino ebolitano Mario Conte. Il riconoscimento è giunto ad un mese esatto dalla firma dell'accordo lo scorso 12 febbraio e che vede coinvolti anche i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Campania, Contursi Terme, Oliveto Citra, Rocca Daspide e Serre, oltre a tre associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti e Un'impresa. Sono orgoglioso di questo attestato, spiega Conte, che evidenza il valore dell'iniziativa e premia la precisione con cui è stata presentata la documentazione frutto del lavoro svolto insieme all'assessore a ramo e vice sindaco Vincenzo Consalvo, agli altri sindaci, alle associazioni di categoria. Ora il distretto, ufficialmente riconosciuto e tassello essenziale del programma d'aria vasta, potrà coordinare azioni di crescita del commercio di vicinato, mettendo in rete risorse prospettive ed attrattive. Con maggiore efficacia potrà rappresentare lo strumento, conclude il sindaco ebolitano, attraverso il quale organizzare eventi di cultura, di spettacolo, di turismo in senso lato, nonché percorsi enogastronomici e naturalistici, per richiamare sui nostri territori flussi da tempo dimenticati di visitatori. Don Angelo Maria Adesso, parroco a Caggiano e Salvitelle, tra i canonici del nuovo capitolo della concattedrale di Campagna, nominati da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Ieri l'insediamento, vediamo. Nella cattedrale di Campagna ieri si è tenuto l'insediamento del parroco di Caggiano e Salvitelle, Don Angelo Maria Adesso, come membro del capitolo della concattedrale. Don Angelo Maria è il membro più giovane mai nominato nell'Arcidiocesi Salerno-Campagna-Cerno. Sarà consultato da Monsignor Bellandi per prendere decisioni e avrà anche il compito di assisterlo nelle celebrazioni più importanti ufficiate in cattedrale, custodire la tradizione culturale della Chiesa locale, curare il patrimonio dei beni artistici della diocesi. Don Angelo Maria è tra i canonici del nuovo capitolo della concattedrale di Campagna dedicata a Santa Maria della Pace, nominati qualche mese fa dall'Arcivescovo Bellandi. I canonici del capitolo sono scelti tra i presbiteri diocesani che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il Ministero Sacerdotale. Il capitolo dei canonici è il Collegio dei Sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa concattedrale di Campagna. Un tempo, il capitolo di una cattedrale era costituito da sacerdoti che vivevano in comunità, pregavano insieme e si prendevano cura delle anime che vivevano sul territorio che rientrava sotto l'amministrazione della Chiesa Madre. Era una sorta di senato vescovile che il pastore del luogo consultava per prendere decisioni importanti. Oggi conserva importanti prerogative tra cui partecipare alle solenni liturgiche presedute dall'Arcivescovo in cattedrale e custodire la tradizione culturale della Chiesa locale anche attraverso la cura del patrimonio e dei beni artistici, quadri, suppellettili e paramenti. Ieri l'insediamento ufficiale accampagna dei nuovi canonici tra cui il parroco di Caggiano e Salvitelle. Il calcio, la Salernitana ha scelto il nuovo allenatore si tratta del portoghese Paolo Sosa esonerato Davide Nicola che ha diretto l'allenamento del pomeriggio. La Salernitana si appresta ora a voltare pagina il nuovo allenatore ha già cominciato a studiare la rosa. Vediamo. Da oggi al lavoro per preparare la gara con la Lazio Paolo Sosa ha già cominciato a studiare la rosa della Salernitana oltre ad aver visto dal vivo la gara di Verone il nuovo allenatore Granata ha visto anche altre partite per capire meglio le caratteristiche dei calciatori da approfondirne pregi e difetti. Domenica per lui ci sarà un battesimo, niente male. Alla Rechi arriverà la Lazio di Maurizio Sarri uno degli allenatori più capaci di incidere sulla propria squadra. Il 4-3-3 bianco celeste si esprime al meglio quando immobile al top ed il bomber ex Torino in questo momento sta recuperando da un infortunio e nelle prime uscite dopo lo stop non ha brillato. Ci sono tanti calciatori importanti nella rosa della Lazio per cui Paolo Sosa dovrà prima di tutto capire come affrontare la partita per riuscire a risolvere uno dei grandi problemi della Salernitana di questa stagione, la fragilità difensiva. Difesa 3-4, il trainer portoghese non è un integralista a Firenze tanto per soffermarsi sull'unica esperienza in Italia l'allenatore Sosa, che da calciatore ha giocato anche con l'Inter e Juventus nella nostra Serie A, ha alternato più moduli trovando una certa continuità di rendimento con il 3-4-2-1 lanciando Federico Chiesa ed avvalendosi del talento di Federico Bernardeschi entrambi poi passati alla Juventus. Con la Nazione della Polonia ha spesso utilizzato il 3-5-2 ma nessuna soluzione tattica prevale sulle caratteristiche dei calciatori e dunque Sosa porterà le sue idee ma le modellerà sulla base del materiale a disposizione. La Salernitana è abituata a giocare con la difesa 3 e dunque non sarebbe un problema riproporla ma recente la squadra Granata ha adottato anche la soluzione con la linea A4 più che il modulo conterà l'attenzione ai particolari la possibilità di sfruttare riferimenti precisi in ciascuna delle due fasi così da avere una squadra in grado di muoversi sul campo con piena consapevolezza delle sue qualità. In attesa dei rientri di Mazzocchi, Fazio e Maggiore Sosa potrebbe rilanciare Daniluk e soprattutto Boinen che gioca nella stessa posizione che occupava il portoghese da calciatore possesso palla, controllo del gioco, propensione ad attaccare restando compatti Paolo Sosa dovrà poi intensificare anche il lavoro fisico visto che il gruppo Granata era abituato a sedute piuttosto brevi per salvarsi conterà anche la fame, la voglia di arrivare i perfini sul pallone tutte componenti che trovano più facilmente saltazione quando testa e gambe sono curate nella maniera giusta La Salernitana da tempo era una squadra spenta senza un faro né un orizzonte certo ora toccherà a Paolo Sosa darle motivazioni, obiettivi, regole la prima è fondamentale e fin troppo evidente da oggi si dovrà lottare con le unghie e con i denti per centrare la salvezza E con la Salernitana è tutto io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti